climbing spot collegamenti in corda doppia con i luoghi in cui l'arrampicata è di casa buongiorno a tutti e a tutte bentornati a climbing spot ricominciamo oggi dopo una pausa invernale natalizia per le vacanze se giustamente siamo andati tutti in giro e adesso siamo di nuovo qui pronti per ripartire al sole di napoli ciao silvia ciao silvia c'è ai nostri ascoltatori e video video ascoltatori video spettatori perché lo ricordiamo da fine novembre più o meno della 2023 abbiamo inaugurato questa modalità nuova di diciamo trasmissione per cui non siamo più solo in diretta radio la diretta si ascolta come sempre su climbing radio punto it ma siamo anche in diretta video sul canale youtube di climbing radio e ogni giorno abbiamo ospiti diversi con i quali chiacchieriamo e vi presentiamo le diverse mete verticali che abbiamo scelto per la settimana sì 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 perché bisogna muoversi bisogna muoversi un po non si può stare sempre soliti posti io arrivo da una vacanza in sardegna in cui eravamo solo noi vecchi insomma comunque gente della vecchia guardia bisogna dire a questi giovani che sono nati adesso che escono dalle palestre di uscire dai soliti posti andare a scoprire il mondo che è bellissimo l'italia in particolare è ricchissima di posti spettacolari soprattutto adesso la massa di riempicatori che esce dal nord deve andare al sud a vedere i posti caldi perché giù si scala bene qui non uscite voi riempicatori perché avete freddo andate nelle palestre anche sabato e domenica ma sappiate che se avete la voglia di fare un viaggiatino al sud per un weekend li scalate da dio al sole esatto e abbiamo terminato diciamo il ciclo autunnale parlando di abruzzo perché in quei giorni era uscita la guida la nuovissima guida abruzzo rock era proprio una primissima edizione non fa caldissimo in abruzzo no così così perché è più un posto vestivo sì perché è fresco ci sono montagne è un po' più montuoso infatti si ha l'impressione che sia una meta come quella di cui parleremo oggi sul mare calda invece no è proprio una destinazione montana l'ambruzzo è gran sasso ma gran sasso montagne magliella e comunque l'entroterra però noi avevamo cercato delle falese al sud da presentare esposte a sud intendo sì 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 l'abbiamo trovato assolutamente ci sono e invece in questi giorni è uscita la nuova edizione di malo passo per cui abbiamo colto l'occasione per raccontare nuovamente le falese di quella zona ne avevamo già parlato un annetto fa più o meno a febbraio del 2023 e avevamo già sentito tante persone tanti ospiti climber e chiodatori potete andare a risentirle in quel caso erano solamente audio non c'era ancora il video però c'è un bell'articolo riassuntivo su upclimbing.com con tutti i podcast e le persone che erano intervenute e potete andare a ritrovarlo nella sezione luoghi verticali di upclimbing.com quindi andate a cercare l'articolo e trovate tutti i podcast dedicati alla costiera amalfitana la campagna di quella ciclo che avevamo fatto adesso ne faremo un altro questa settimana specifico questo adesso entriamo proprio nelle falese ma più che sì ma in realtà era molto specifico per falese anche quella volta però cerchiamo di raccontarvi un po le novità rispetto alla guida che c'era prima che risale al 2015 le novità da di quest'ultimo anno o rispetto a quella guida e oggi sentiamo nuovamente francesco galasso che lo ricordiamo è il fondatore di direzione verticale e ci aveva parlato l'anno scorso l'anno scorso sì di varie falese della falese degli dei di montefaito e poi alla fine di quella puntata ci aveva nominato l'orrido di pino che però non c'era stato tempo e l'avevamo un po così raccontato un po velocemente quindi oggi lo esploriamo un po meglio e fa parte anche questo di delle novità di questa nuova edizione non c'era nella vecchia guida quindi io direi abbiamo già parlato abbastanza e introduciamo subito il nostro ospite di oggi che ci sta aspettando già da un po già in collegamento ciao francesco ciao francesco ciao silvia ciao roberto grazie dell'invito ciao a tutti gli ascoltatori e i video ascoltatori su youtube come state bene bene grazie a te e bentornato a climbing spot questa volta ti possiamo vedere in volto e non più solo è anche più piacevole salutarsi così e fare una bella chiacchierata insieme infatti infatti e allora sicuramente un anno fa ci avevi raccontato di che cosa si occupa direzione verticale ci sono delle novità nella innanzitutto come la possiamo chiamare un'associazione è una grande community direzione verticale una community di di climber piena di proposte proposte diverse sia per gli arrampicatori per quelli che amano la natura è aperta e soprattutto a un fondo che ho datura che sviluppa insieme alle agli enti di promozione sul territorio alle amministrazioni alle istituzioni sul territorio ci interfacciamo mettiamo insieme tanta gente cerchiamo di di sviluppare come come meglio possiamo e secondo i nostri principi l'arrampicata sicuramente ma anche le attività outdoor in genere che che offre la costiera amalfitana ma anche fuori dalla costiera amalfitana io faccio base a castellammare sono di castellammare ed è al centro un po della a metà strada tra la costiera amalfitana nella penisola sorrentina quindi mi muovo da qua da casa mia e vado a chiudare vado a incontrare gente climber soci di direzione verticale che appunto grazie al sito grazie ai social poi si interfacciano con me online poi mi piace poi incontrarli gestisco poi la la parete lead di aggero la l'unica parte dell'idea della campania dedicata all'arrampicata indoor e quindi faccio un po di cosettine con direzione verticale mi occupo totalmente di direzione verticale ecco e sono sono super impegnato su questo ultimamente sono sono molto all'orito di pino la festa di cui parleremo oggi è appunto andiamo un po dentro questo grande lavoro che che ha preso tanto tempo e tanto impegno senti ma l'orito di pino sta sul versante di castellammare o sta sul versante diciamo di furore della della penisola sorrentina la io la chiamerei alta costiera amalfitana perché la costiera amalfitana è più verso il livello del mare insomma questo questo questa parola che che è l'alta costiera amalfitana è diventato un po l'hashtag il brand name di di aggerola che è il posto dove si focalizza un po l'attenzione turistica turistico sportiva della 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 appunto dell'alta costiera amalfitana l'orito di pino si trova a metà tra è divisa in due cioè un canyon a ad anfiteatro e la parte ovest fa fa capa da giro la far test a furore ma sono loco è considerabile un grande comprensorio è un sentiero di un chilometro e mezzo che parte da aggerolo a furore o al contrario al cui centro ha il fiume schiato questo grande fiume che ha praticamente modellato questo questo grande vallone le falese che sono sulla costiera amalfitana sono principalmente su su valloni dentro nei valloni se pensiamo a postitano c'è valle pozzo e valle porto valle pozzo dove c'è il paretone c'è la tacchetteria dove c'è lo scalodromo la cencia augusta invece valle porto dove c'è la selva la falese della selva e cannabis il buco tutte quelle valli lì poi c'è il sentiero degli dei che è il vallone di praiano e l'altro vallone successivo al vallone di praiano e di aggerola è il vallone tra furore ed aggerola comunque furore si trova tra amalfi e positano se non sbaglio furore è furore alto e furore bassa è questa grande scoria si chiama furore perché è il nome antico terra furore vuol dire terra aspra infatti è una terra molto verticale voi appena passate a gerola vedete subito questi strapiombi che cadono a picco sul mare uno è appunto il canyon di pino è a furore a metà tra conca dei marini che conca dei marini è amalfi praticamente poco più a sinistra c'è amalfi con tutto l'abitato e a sinistra c'è la valle delle ferriere un altro vallone queste grandi montagne che sono dei monti lattari che toccano ai 1400 metri con monte faiito sono solcati proprio da severi valloni profondissimi pieni di microambienti proprio di microcosmi dentro la costiera amalfitana se pensate alla valle delle ferriere che appunto a sinistra dell'orrido di pino è una riserva naturale orientata pensate che lì sopravvivono felci dal paleolitico cioè 250 milioni di anni fa proprio per il microclima che si è creato in questi posti sono valloni affacciati che guardano a sud ma sono coperti da da eventi da nord quindi praticamente è una biosfera un microclima tropicale che dà la possibilità di vivere alla salamandra a tanti animali selvatici e queste grandi valli ovviamente sono calcare e conservano tanti pareti dove noi facciamo la nostra attività Senti in questa zona alta c'è anche un pochino meno turismo forse un pochino più da scoprire in modo sereno rispetto alla costa perlomeno alla costa dove c'è Positano dove c'è Amalfi Sì in linea di come dicevo pure nell'altra puntata io consiglio di stare alti stando alti rispetto alla questione Amalfitana nell'altra puntata consigliavo tramonti a Gerola come posti dove soggiornare nella parte alta appunto l'hashtag alta costiera Amalfitana c'è possibilità di parcheggio di trovare strutture comode trovare prezzi ragionevoli e stare lontani dalla follia del del lusso della della costa I nomi come Positano, Capri, Amalfi sono nomi inflazionati dal turismo di lusso c'è uno standard altissimo cioè io non critico il turismo di lusso è un turismo che è un pochino fuori dalla portata dall'attività che noi pratichiamo noi vogliamo posti che che offrano un buon compromesso prezzo qualità stando lontane appunto dal dalla costa ma questo non vuol dire che possiamo fare una visita da Amalfi Positano e comunque vedere queste zone costiere e vedere anche la bellezza architettonica e la bellezza del gusto che offrono questi questi posti stando in alta costiera cioè a Gerola, tramonti e tanti altri anche Montefaito assolutamente è un posto alla portata delle tasche dell'arrampicatore si può appunto scalare in posti dove non c'è affollamento trovare bed and breakfast appartamenti ristoranti a un prezzo ragionevole e stare proprio in contatto con con i local che quello è importante se andate in posti super inflazionati troverete gente che lavora lì e lavora secondo uno standard altissimo invece la da Gerola trovate con Paturiddu il pastore Antonio e tutti gli amici è bello stare in contatto proprio con chi vive il posto e stare insomma approfittare pure di una di un consiglio di una tip che può darti solo il local che affezionate sapete l'ospitalità qui è sacra certo comunque l'arrampicata ha la fortuna di esercitarsi in bassa stagione quindi gli arrampicatori hanno la fortuna di godersi anche i posti più con un turismo diciamo più d'elite d'elite finanziaria non certo culturale di godersi questi posti comunque nel migliore dei modi perché in bassa stagione non c'è turismo turismo da spiaggia e c'è meno gente e anche i prezzi sono abbordabili io devo dire che anche in costiera nelle zone più belle ho trovato in inverno dei prezzi dei prezzi accessibili ecco sofferto più che altro la movimentazione ecco l'uso della macchina quello l'ho sofferto abbastanza mentre come dici tu appena si esce dalla costa si respira tutto un altro tutto un altro tutta un'altra area anche proprio dal punto di vista della 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 dell'affollamento e delle possibilità di muovere delle possibilità di parcheggiare per esempio che sembra una stupidata ma lungo la costa è un problema grosso mentre appena si esce il problema scompare completamente si 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 sono d'accordo esattamente questa falesia adesso diciamo così falesia dell'orio di pino poi magari ci spieghi un po' meglio come si articolano i settori la parete il tipo di arrampicata che si può fare qui quindi non siamo sulla costa siamo nell'entroterra no 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 come come spiegavo la costiera amalfitana è una una catena montuosa la catena montuosa dei monti lattari che va da cava a punta campanella sono 90 chilometri di di montagne infatti è soccata da questo grande sentiero se potete cercare alta via dei monti lattari è un sentiero che che fa percorrere una traversata che è mitologica appunto passate da da mare a montagna ad ambienti alpeste a costiera in in tre quattro giorni un è un tour che suggerisco sicuramente e entroterra noi lo chiamiamo più la quello che va verso est la vellinese il beneventano per noi in campania e l'entroterra sì mi intendevo che la falesia non è sul mare è una falesia che è affacciata sul mare anche stando in questi valloni si ha vista mare a meno che si vede il mare sicuramente la vista è questo cono è una vista cono e al centro di questo cono c'è proprio il mare come se si vedesse il mare una palla di vetro come dicevo è un chilometro e mezzo di di roccia un chilometro e mezzo questo sentiero di un chilometro e mezzo voi lo fareste con al alle vostre al vostro lato la la parete e sull'altro lato il vallone profondo che della di questa grande cascata di di queste grandi cascate dello schiato e poi il mare quindi c'è fiumi montagne roccia e mare tutti tutti gli elementi in un solo posto un chilometro e mezzo e la parte più alta eh dove appunto ci sono le multi multi pitch sono è sul centinaio di metri eh parte dal dalle case rupestre questo posto dove prima di andare in collegamento vi parlavo dove ho scalato proprio eh venerdì c'era c'era un gran freddo però ci siamo coperti bene qua quando c'è questo è anche il periodo più freddo dell'anno infatti eh è un periodo anche di di grandi tradizioni ehm eh infatti sì in questo periodo qua a Gerola che ha come patrono Sant'Antonio Abbate eh Sant'Antonio Abbate che è un santo egiziano al al patrono del del bestiame e in questo periodo più freddo dell'anno visto che le temperature sono rigide e le carni si riescono a tollerare anche l'ambiente esterno quindi col freddo riescono a conservarsi meglio eh i i local fanno praticamente un le festività dedicate al maiale il c'è la canzone di Vinicio Capocello Capocello il testamento del porco che è il il porco è come se fosse un santo perché dal dal maiale si si ricava tutto e in questo periodo da Gerola si c'è c'è questa grande solennità sapete che pure il il salvadanai a forma di maiale il maiale per noi è ricchezza per noi local amalfitani cioè il pastore che ehm fa questa questa lunga tradizione è una tradizione che poi si fa intorno a tutta la famiglia la famiglia si riunisce intorno al eh al maiale come si riunisce la famiglia intorno alla terra nel periodo estivo intorno al pomodoro il pomodoro è un rito familiare qui e tutti tutta la famiglia partecipa dal più piccolo all'adulto al nonno come se fosse una grande trimu il nonno è lo sciamano il piccolo è quello da 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 domesticare e portare alle tradizioni e qui trovate pure persone eh che sono molto autentiche come i pastori che 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 sono qui accanto alle pareti di di arrampicata ehm c'è tradizione anche del formaggio perché c'è anche una grande tradizione casearia certo è un ambiente che si è mantenuto eh autentico insomma non è stato eh troppo modificato dal turismo e si riescono ancora a vedere le le usanze che ci sono e quindi ci stavi dicendo che che fa freddo insomma in questo periodo comunque bisogna coprirsi in sostanza aspetta un attimo mi curiosisci questa cosa ma il pomodoro viene raccolto poi fate la salsa e li fate anche seccare al sole eh allora parli con uno che io sono originario di Angri quindi la piana del San Marzano Angri è un comune del Salernitano non lontano da Castellammare di Stabbia è l'epicentro dell'industria conserviera del pomodoro cioè Angri è un paese ricco grazie al pomodoro ci sono tutte le industrie conserviere e eh io ho partecipato nella mia cioè mi sostenevo gli studi andando a fare la lavorazione del pomodoro d'estate da da luglio a ottobre c'è la raccolta del pomodoro e si trasforma il pomodoro il San Marzano che che conoscerete è quello a lungo quello lì più pregiato ehm quindi la la il pomodoro si fa i pelati che sono la cosa più preziosa per e si fa all'inizio della stagione poi si fa la passata e poi c'è l'ultimo procedimento che è il concentrato di pomodoro e il pomodoro secco invece è quello lì che si fa sotto olio ed è più un contorno il pomodoro secco certo io lo uso lo uso nell'hummus per dare sapore all'hummus eh lo metto dappertutto io sì buonissimo da mia mia nonna li faceva c'era questa grande spasa di di pomodori si tagliavano i pomodori e si si lasciavano seccare al sole quindi poi si conservavano sott'olio grande maestrange della melenzana sott'olio chissà che bontà mi spiace interrompere i vostri sogni culinari ma il tempo stringe orrido di pino come si arriva quindi ai settori i vari settori tu ce ne hai citato uno però ce ne è anche altri dell'orrido di pino come si arriva in falesia ecco intanto aspetta se arriva solo dalla parte di furore o si arriva anche perché vedo che c'è una strada che taglia fuori tutto il delirio della costiera e arriva direttamente da da casa tua da Sorrento no da Castellammare forse sì da Castellammare ma anche dalla costiera infatti ho tanti amici dalla costiera che saluto Silvia che è la mia Silvia no Silvia Rialdi Silvia Bisse che è la mia amica di Praiano che mi raggiunge e da Praiano in mezz'ora siamo a metà strada e ci ricongiungiamo lì quindi dalla costiera si raggiunge facilmente vicino ad Amalfi è vicino a Praiano Positano non lontano da questi questi posti qua e da Castellammare ci metto lo stesso tempo perché in mezz'ora io ci metto 35 minuti per raggiungerlo si può raggiungere rispondo alla domanda lato a Gerola questo sentiero che appunto inizia da Gerola a furore e da furore al contrario è anche chiamato la Vottara e perché Vottara? perché durante la pestilenza del 1600 qui si lanciarono giù di questo vallone i Santi Santo Iato e tanti altri Santi la popolazione arrabbiata buttò giù i Santi fu un esempio di blasfemia pensate che i napoletani sono molto cattolici però in questo caso sono stati blasfemi ma arrabbiata perché questi non sono stati capaci? arrabbiati per la pestilenza perché non si risolveva la pestilenza quindi pregando pregarono pregarono si scocciarono della preghiera e lanciarono giù i Santi infatti quando si arrampica qualche bestemmia la si può ancora sentire nell'aria e quindi poi settori da lato a Gerola case rupestri è il primo settore due minuti dalla macchina invece da lato furore la falesia di Vottara due minuti tre minuti e si è in falesia Vottara è una falesia che ho fatto riaprire grazie al coordinamento con gli enti di promozione i comuni e il benestare del proprietario che appunto abbiamo convinto con tanti biscotti di Castellammare e bottiglie di vino e la nostra amicizia poi continuando io consiglio parcheggio lato a Gerola per trovare sicuramente il posto perché nel fine settimana dal lato furore è un parcheggio molto piccolo e non conviene nel fine settimana rischiare di non trovare posto ci sono giusto quattro posti auto e sapete che quattro posti auto si colmono facilmente nel fine settimana dal lato a Gerola c'è tutto il posto un chilometro e mezzo quindi voi fate tutto il canyon che sono settore Vottara settore Ischia settore Grotta dello Svizzera Napoletano settore Scuola settore Sciopero settore Bavella settore Multi-Pitch e settore Case Rupestri in mezz'ora riuscite in un comodo cammino non c'è nessun pendio a piedi a piedi un po' comodo cammino e vari stili di arrampicato Case Rupestri è quello più di dita di tacche invece Bavella è quello con i manettoni ci sono le Bubble Rocks delle rocce proprio tipo Giordania leviga oppure Bavella appunto della Corsica molto a livello quindi manettoni grossi settore Scuola è quello che dà più possibilità perché ci sono 40-50 vie dal quinto al 7B ma prevalentemente sono tutti quinti e sesti che appunto l'ho chiamato settore Scuola Svizzero Napoletano è il settore dedicato al mio amico Svizzero però in realtà è dedicato anche ad Agerola perché Agerola viene soprannominata anche la piccola Svizzera Napoletana perché ha questa atmosfera di tranquillità di verdeggiante è chiamata così quindi il settore ha voluto onorare sia da Agerola che ci ha ospitato e ci ha stimolato con le chiudature che ha questo mio amico che adesso vive in Svizzera a Zug ma è quindi parlando di sì scusa dicevi sotto la grotta la grotta dello Svizzero del Napoletano c'è proprio via di tetto recentemente c'è stata una libra di un 8A più 8B però grado da confermare libera di Domenico Costabile ci sarà sicuramente appena sarà pulita dai licheni che è un settore proprio nell'orrido più profondo cioè in ombra e quindi è una roccia molto lichenosa c'è questo lichene bianco che va pulito bene spazzolato intendo appena sarà spazzolato bene questa via sarà più dura di quest'altra e è proprio sul fiume ci sono queste cascate è un ambiente da riserva integrale della Valle delle Ferriere e poi c'è la Vottara più avanti rispetto alla grotta dello Svizzero Napoletano roccia è un calcare lavoratissimo sia dal dall'ambiente dal vento dal sale che è nell'aria che è proprio dal lavoro geologico cioè sono rocce che sono state molto lavorate geologicamente cioè trovate quarzo proprio alla base ci sono depositi sedimentari di roccia ascoltami ai settori scuola e bavella chi li ha chiodati quando sono stati chiodati per la prima volta raccontaci un po' il lavoro che c'è stato dietro grazie della domanda che è un bel ricordo che porto fui accompagnato da questo signore che si chiama Antonio Acampora ed è uno che tiene molto ad aggero è proprio un personaggio adesso a dicembre ha organizzato il presepio vivente ma è un è un istrione è un punto di riferimento per gli aggeri lesi detto anche Antonio o volpe e infatti gestisce pure il bed and breakfast delle volpi il ritrovo delle volpi in fare che si chiama Francesco sapeva che volevo chiodare ad aggero Francesco c'è questo posto che sicuramente ti interesserebbe ed è e mi portò giù all'orido di Pino appena arrivai dissi questo posto è fantastico e iniziò a chiodare nel 2016 2016 poi ci fu questo questo interessamento della della prologo la prologo di Gero la finanziò le prime vie e con 2000 euro chiodai 20 vie sul sul settore orrido di Pino e altre 20 vie sul sentiero degli dei poi con il fondo di chiodatura di direzione verticale abbiamo finito la chiodatura con il settore case rupestriche sto finendo in questa settimana completiamo sicuramente superremo il centinaio di vie saranno più di 100 non le ho contate ancora però saranno 110 120 vie sull'orido di Pino sentiero degli dei ne abbiamo parlato l'altra puntata eppure siamo sul centinaio di vie tra sentiero degli dei vari settori ma il lavoro l'hai fatto tutto da solo cioè fisicamente il lavoro di chiodatura tutto da solo ti ha aiutato qualcuno perché insomma centinaio di tiri sì è un lavoro mi sono avvalso di tante sicure perché chiodo spesso da solo è un po' difficile trovare persone che abbiano le capacità di chiodatura infatti vorrei organizzare anche un corso di chiodatura breve per simulare altri chiodatori quindi poi sicuramente devo ringraziare tanto Silvia che ho già nominato prima che abbiamo fatto tanta pulizia insieme e tutti quelli che mi hanno aiutato a fare la sicura ma prevalentemente tutte queste vie queste centinaia di vie sono state chiodate da me in solitaria certo sì ringraziavole tutte perché veramente chiodare è un lavoro in mano e faticoso ma un pochino di gloria ti resta un pochino di gusto il gusto di creare qualche cosa c'è farsi cura a uno che chioda bisogna proprio essere dei santi non quelli che vanno tirati da la ruca ma quelli che bisogna ricordare ricordare ma ci dicevi che oltre ai settori diciamo falesia come si può dire monotiri ci sono anche c'è anche un settore con via più tiri lì però non sei solo tu l'apritore c'è anche Oreste e poi i vostri vari soci compagni su anche altri quello è il settore multipitch ho chiodato qualche variante e poi di fronte a questo settore un'altra multipitch che si chiama il trono di pino è una bella una bella multipitch di fronte a quest'altra ok perché sono paretti che si guardano insomma si si guarda c'è praticamente sono una di fronte all'altra una c'è l'esposizione questa è qua delle multipitch esposizione sud sud ovest l'altra è sud est quindi sono complementari calcolate pure che i settori dal sud ovest sono all'ombra nel primo mattino in estate e l'altro invece sud sud est sono all'ombra al pomeriggio quindi si può comodamente fare una vacanza calcolando pure l'ombra e il sole che è complementare calcolate che in mezz'ora fate un chilometro e mezzo di sentiero estate da un settore all'altro con vari stili di scalata cioè forte strapiombo manettoni tacche sul bottara tacche ma sul difficile case rupestri su case rupestri già la via più facile 6 cpu 7a forse un'altra che sto finendo di resinare un pochino più morbida nel grado ma è un tipo di arrampicata che si troverebbe in palestra pochi piedi tacche difficili da aprire e anche da caricare nel verso giusto questo delle case rupestri l'avventura con le multipitch pure garantita perché sono vie comunque carine da scalare 4 5 tiri massimo si sono massimo 135 la più lunga si sviluppa si insomma ti diverso perché alcune sono sul quinto sesto anche se magari chi scala sul quinto sesto non è proprio abituato sui traversi non si trova a suo agio sui traversi sono vie che fanno traverso questo del quinto sesto e poi il settore scuola tanto infatti a dicembre che ci sono stati vari gruppi da varie parti d'Italia il settore non era ancora pubblicizzato però c'erano tanti tanti gruppi di scalata si sta diffondendo la voce che è un settore molto versatile basi comodissime larghi si sta larghissimo sotto le basi vita sociale si può fare vita sociale si sta comodi perché stanno 40 vie continuando con gli stereotipi vita sociale si può ascoltare la musica neomelodica qui alla base portano si 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 così vi sentite un po' terroni da marri come orgogliosamente noi noi climbers siamo ok ma è comunque insomma questo settore scuola all'orrido di Pino abbiamo un po' di tutto cioè non sono solo gradi proprio super elementari bassissimi troviamo anche dei 7B dei 7A dei 1 un 7B un 7A 2 7B 2 7A dice la guida almeno allora vi consiglio Felicione Extension che è una 7A l'extension di Felicione poi Sansari Extension destra che è pure bella poi come 7A bellissimo unico su Bubble Rocks che è Limbo uno dei 7A più belli della valle del Vottara orrido di Pino 7B c'è Oshuraro che è molto bella tecnica lunga le vie sono pure lunghette queste sono 7A 6C belli forse conviene stare su Vottara che è il settore 6B anche il settore scuola ne ha tanti e diciamo 6A chi scala sul 6A 6A più settore scuola ce ne sono parecchi di belli e quindi in quantità quindi tantissimi siete roccia solidissima avete dovuto pulire avete dovuto sgaggiare un po' tanto si è stato pulito un sacco calcolo che il settore scuola è sull'appoggiato e essendo una fasi che non è in quota viene presa da vegetazione poi calcolate pure che c'è il Vesuvio non lontano il Vesuvio ha eruttato materiale piroclastico ceneri per millenni quindi ha creato una vegetazione fitta intorno grande grande pulizia devo darmi merito non per volermi darmi però ho fatto una grande grande pulizia disboscato l'appoggiato mancava un po' era necessario averlo anche perché l'appoggiato è l'inclinazione dove scalano i principianti ci è stato fatto un grande lavoro grazie pure a chi mi ha aiutato stiamo continuando a pulire perché anzi consiglio agli ascoltatori portatevi un bello spazzolino perché il passaggio degli arrampicatori adesso che viene sta sta ricevendo le prime ripetizioni settore con il passaggio degli arrampicatori lo spazzolino sta sta venendo fuori un bel lavoro perché la spazzola è ben è bello far notare a chi ripete le vie che c'è stato fatto un bel lavoro potete continuare il lavoro con la vostra spazzola è gradito è gradita la spazzola e se vedete due ciuffi d'erba su un tiro non evitate il tiro ma fatelo e tirate due ciuffi d'erba il ciuffo d'erba mi raccomando che lo dico a tutti ragazzi togliete il ciuffetto poi puntualmente si calano che stanno stressate dal tiro e non la tirano togliete le sue ciuffo d'erba infatti infatti e qui si può andare tranquillamente in questo periodo una falesia adatta all'inverno sì 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 è inverno ma anche io ci ho scalato pure d'estate calcolando che la parete ha preso tutto il fresco della notte chi ama alzarsi presso la mattina si fa una bella scalata d'estate fino a mezzogiorno starà in ombra al settore scuola e poi l'altro settore andrà in ombra alle due del pomeriggio al settore sul lato di furore quindi quindi votare sì ci si organizza io preferisco d'estate scalare al mattino appunto perché poi la roccia incorpora tutto il caldo lo rilascia nel pomeriggio meglio scalare la mattina che il pomeriggio capito Roberto certo sì sì lo so purtroppo è un dramma io sono uno che invece non si alza presto e spesso soffro queste cose soffro il caldo e poi magari la sera prima hai mangiato la pizza hai mangiato il panuzzo ti sta sullo stomaco e dormi di più ma abbiamo giusto cinque minuti Francesco sì volevo salutare quelli là di Faito che la Faito Climbing House Andrea Sodano Emilio Di Leo che sono un po' quelli là che hanno acceso il crowdfunding grazie al crowdfunding dei faitensi di tutti gli amici di Faito sono nati questi settori a Faito stiamo chiodando nuovi settori Faito è in quota come dicevo prima è questo grande bosco di faggi in quota scusami è giusto perché noi l'abbiamo presente perché ci siamo diciamo accordati prima però gli ascoltatori magari cascano un po' così dal nulla Monte Faito è tutta altra zona non siamo più all'orido di Pino non siamo più in costiera siamo questa volta forse geograficamente si toccano allora agli ascoltatori è bene tenere presente che le distanze in costiera amalfitana sono relative cioè quando vedete da google maps vedete questo posto qui è vicino a quell'altro non illudetevi perché quel posto è raggiungibile tramite stradine molto tortuose e piene di curve questo è importante geograficamente Monte Faito è vicino ad Agerola cioè a Gero tu guardi il Monte Faito la cima del Faito ma non è così perché la strada per arrivarci poi è un'ora e mezza di macchina magari sono 15-20 km massimo 25 km ma bisogna farli con la macchina andando lentissimi si va a 30 orari per queste stradine strettissime ma perché sono sterrate no 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 sono strade asfaltate ma sono strade che sono state rubate alla verticalità di questi posti quello che è la che è la strada carrabile è stata costruita in tempi recenti prima ci si muoveva tramite le mulattiere tutti i sentieri che questa grande rete di sentieri che collega tra loro i posti erano le vie di comunicazione recentemente dopo l'epoca fascista sono state costruite queste vie come potete cercare la via Nastra Azzurga una delle vie più mitologiche del mondo è un miracolo ingegneristico sono strade che sono a picco tra montagne e mare e no sono strade asfaltate e spesso sono difficili da percorrere perché sono piene 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 di curve si va molto molto lenti però sono asfaltate i comuni gli enti si occupano di asfaltarle ma è un tutte le infrastrutture di comunicazione in costa di Amalfitano sono difficili proprio per l'asprezza del territorio è un territorio molto aspro verticale ma anche la bellezza di questo posto è data dal fatto che è appunto è un territorio aspe verticale e unico quindi qui a Montefaito ci sono delle novità rispetto a quando ci siamo sentiti un annetto fa sì 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 non abbiamo parlato dell'altra puntata del settore Emilio vado a memoria che è il settore dedicato appunto a Emilio Di Leo che si è occupato con la Faito Climbing House e insieme al suo nipote Andrea Sodano del crowdfunding ma anche di creare insieme a me il nuovo sentiero abbiamo riscoperto questo sentiero antico questa mulattiera che era stata ricoperta dai rovi l'abbiamo resa accessibile creando un nuovo settore adiacente al settore Catello richiodando e chiodando nuove linee al settore Catello il settore Antonino pure abbiamo fatto qualche opera e poi ci sono altre falese che sono in costruzione e sono esposte a nord saranno quelle là anche più versate perché questa falese è qui solo il settore Antonino è esposto a nord ma c'è a tiri cortini secondo me non entusiasmanti l'esposizione nord d'estate è ideale e calcolate pure che Montefaite è in quota il villaggio di Montefaite dove ci sono tutte le le case e le abitate diciamo le case vacanza più che altro ci sono anche dei local che vivono a Montefaite ma essendo un posto un po' fuori dal dal tessuto urbano è abitato da pochi abitanti e quindi è molto molto fresco è un posto dove punterò per il futuro e appunto stiamo facendo nascere questa falese che sposta a nord e quindi riceverà tutto il fresco ma anche diverse multipiche che sono mentre invece il settore Emilio è un settore dove si può andare in questo periodo sì in questo periodo evitate il quando è coperto perché fa freddo un po' ovunque e là essendo in quota il freddo si sente più che a valle i settori con il nuvoloso i settori in costiera essendo vicino al mare c'è questa condizione favorevole del mare che che dà un microclima più piacevole in quota Montefaida è proprio un paesaggio montuoso montano alpestre infatti ci sono questi 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 pini marittimi di 30 metri come delle sequoie del parco nazionale americani ok quindi un un posto che consigli ai nostri ascoltatori da andare anche in questo periodo assolutamente da visitare Montefaido cioè questo settore questi di cui abbiamo parlato che sono già censiti e disponibili si raggiungono in 5 minuti a piedi al parcheggio molto molto panoramico falesia bellissima senti e dovessi dare un consiglio su dove dove prendere dove cercare un appartamento cosa dire o piuttosto che dove piazzarsi con il camper per una vacanza di una settimana appunto mi chiedono come fare per una delle domande frequently asked the question che mi fanno sul sito dove campeggiare dove mettere tenda falesia si presta bene sia per il camper che per la tenda ma se andate all'hotel Sant'Angelo che è gestito da Danilo di Vico e Quenze pure outdoor che sta sviluppando pure il turismo outdoor la faite una delle poche realtà che è attenta a quest'altro tipo di turismo Danilo dell'hotel Sant'Angelo vi saprà dire per appartamenti e dare indicazioni ma anche su booking si trovano qualcosa su google se googlate montefaite appartamenti si trovano cose su casine di montagne molto belle io sono stato capodanno lì con la mia famiglia gli amici abbiamo acceso un focolare abbiamo fatto le passeggiate nel bosco e anche in montagna in mezz'ora si è su una cima di una montagna dopo un breve sentiero comodo e in mezz'ora ti muovi ovviamente bisogna avere la macchina per muoversi oppure è servita dalla Funivia che è attiva da Pasqua ai morti quindi apre nel periodo pasquale e chiude nel periodo dei morti a novembre la Funivia si prende a Castellammare qui dove vivo io 8 minuti e si è in cima 5 euro e ti va a vivere la montagna più bella bellissimo mi sembra che ci siano un sacco di possibilità anche in questo posto Francesco noi siamo arrivati al termine della puntata del tempo ti ringraziamo tantissimo per tutto quello che ci hai raccontato non so se ci vuoi dire qualcosa al volo prima di salutarci grazie grazie tanto di avermi invitato vi invitatemi pure vi parlerò di altri settori c'è tanto ancora da chiodare mi sto dando da fare pure a Positano il settore CBD che unisce cannabis con l'anfiteatro e il buco insomma benissimo il 2024 sarà ricco di nuove nuove falese benissimo noi siamo più che contenti quando c'è da raccontare per il prossimo collegamento ci organizziamo con un paio di pezzi di neomelodico di quelli giusti che ci consiglierai così mi sento a casa assolutamente mi sento a casa dai un po' di neomelodici così mi sento un po' con more gangsta climber perfetto grazie mille Francesco quindi alla prossima grazie Francesco ciao grazie grazie ciao ciao a tutti e grazie di avermi invitato ciao grazie a te ti è venuto un po' voglia di sarsi di pomodoro ah beh sì di passata buonissima bene quindi siamo arrivati alla fine di questa primissima puntata dedicata alle falesie campane in questo caso della costiera malfitana ricordiamo che oltre alla nuova edizione di Malopasso ci sono tantissime informazioni utili anche sul sito di Francesco Galasso direzioneverticale.it quindi ci sono queste fonti per andare a scalare e informarsi in questa zona sì sì e ci si può arrivare sia con l'aereo non l'abbiamo detto a Napoli si possono prendere poi le auto a noleggio abbastanza facilmente a buoni prezzi e ci si arriva anche con la macchina però anche dal nord si mettono in conto quelle cinque ore di auto insomma si può fare non dico il weekend però quasi quasi ok niente continuate a seguirci perché nei prossimi giorni parleremo ancora di Arrampicata in Campania con altri ospiti dopo di noi c'è una diretta di Marco Pandi di Material Words con Paolo Tombini autore di Sicurezza in Montagna mentre per quanto riguarda alpinismo rustico si stanno preparando nuove puntate in formato video quindi ci saranno delle novità continuate a seguirci grazie a tutti quindi a domani a domani ciao 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 a tutti grazie per aver ascoltato Climbing Spot l'appuntamento di Climbing Radio con i luoghi più amati dai climber grazie per aver guardato l'appuntamento di Climbing Radio grazie per aver guardato grazie per aver guardato